Ciao a tutti! Si sente? Si sente? Ecco, giusto per... non so se avete notato che io non ho i capelli. Non dovete ridere adesso, dovete ridere dopo. Perché io non ho i capelli denuncerò l'Italia? Per questo fattore qua. Noi cerchiamo comunque... grazie... cerchiamo comunque di fare il massimo che possiamo e iniziamo a fare questa piccola serata con un momento di animazione col pubblico e procediamo facendo una prova di applauso come se lo spettacolo fosse il più brutto che avreste mai visto in vita vostra. Vai! Brutto, brutto, brutto. Grazie, questa reazione mi sembra abbastanza spontanea. Vi chiederei di fare una prova di applauso come se lo spettacolo fosse immediatamente carino. Adesso fate una prova di applauso come se lo spettacolo fosse il più bello che avete visto in giusto. Questo era il più falso dei tre. adesso se possiamo sollevare ancora un po' l'audio eventualmente proviamo a fare una prova di applauso televisivo ma fate molta attenzione perché è uguale a quello che abbiamo fatto adesso però io vi do in là e quando faccio così smettete il colpo. Pronti? Vai! Siete bravissimi. Ancora vai! Siete tutti invitati alle prossime registrazioni di Colorado. Grazie. Ora, se ci siamo, farei entrare i miei partner. Grazie. 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 Grazie, grazie. O-ah-ah. Sa. Se è signora è un goletto. E adesso? Va. V好像 è? Vo- ctu- vo- ctu- Ha oleh Ha-ah-ah. E si può eliminare. Volendo, anche fisicamente proprio. Lo lanciamo. Siete molta pazienza, Però non la faccio più. Ho il centro più e si posizionato pelato. You are a actor, qualia è... low ley station? non stiamo parlando una moto a folle velocità spettacolo di Mimo stasera si spera è bassissimo lui è bassissimo io sono bassissimo lo facciamo a voce piena si si provate a fare il massimo silenzio e vediamo se ci sentite è bello fino alla lavatrice piacere sono il regista è bello fino alla lavatrice avevo capito giovanotto o pensa che siamo ritardati? si ritardattari è bello fino alla lavatrice piacere allora per prima cosa il polmone è questo purtroppo il sonico ci ha rinunciato ormai facciamo che facciamo che prima di iniziare lo sketch proviamo i micro qua ehi dai fattegli fumare una canna ma la lavatrice ehi 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 il mio funziona perfettamente ed è uno vai ce ne abbiamo siamo al 33 punto al 3 periodico per cento noccio è il numero 1 quello che è segnato con una barra così e un'altra piccola sopra il mio non lo posso mostrare perché l'ho messo nelle mutande ehi ehi bisogna sollevare ancora un po' lui secondo me stai sollevando solo il 3 però sa prova ehi mi illuminati ehi 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 In realtà il nostro spettacolo è tutto musico. Ma ce l'abbiamo oltre i microfoni? Che funziona? Il microfoni al gelato? Dai, proviamo con quel microfoni al gelato, vai. Questo si può anche... Oh, meglio! Molto meglio! Alla grande, alla grande! Sì! Le notti non finiscono All'alba nella via Le porta a casa insieme a te Oh, X Factor! Vabbè, quando c'è un microfono che funziona mi sfogano Vai, sfogati! E' ben più una lavattrice E' ben più una lavattrice Avevo capito, giovanotto! O pensa che siamo ritardati? E' ben più una lavattrice Piacere! Per prima cosa, parli inglese? Non ci sono problemi, tu mi dici quello che la vuoi fare Qual è il tuo nome? 28, a febbraio l'ho fatto L'ho fatto Ma da dove sei? Sì Sì, da dove sono E il corto è? In la città di tutti Bene, l'inglese lo sai Ti gavarisci i ruschi? Segnatelo, sono tre quarti di vodka Due terzi di rum e quattro quinti di Mirton Ross Ma io ti ho chiesto se parli russo Vai tranquillo, bevi quello, parli tutte le lingue e giusto Bene, con le lingue ci siamo Per quanto riguarda il profilo, invece, per prima cosa devi fare finta di suonare un citofono Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare Testimoni Eh, suona il citofono Però che cazzo d'è? Non c'è, è una cosa fittizia Ah, io roba fittizia non ne tocco, eh Non si sa mai, ti prendi un'influenza, quelle dei maialetti messiccani Quelli che fanno qui, 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 qui Allora, tu devi fare il gesto, così E Melchiorre ti fa il suono, prova Ci voleva tanto Bravo, dindon, questo è il meccanismo Adesso, se questa è la mia, allora, gentilmente dovresti smetterla perché devo spiegare Adesso, quindi, acconsente a queste amiche, basta con questa mano E devo spiegare il resto del testo Ho detto, basta con la mano Ti sbatto fuori Ho parendi in Africa? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti